Altro episodio di violenza a carcere della Sabione a Terne, dove un detenuto e alcuni agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti a seguito di una lite tra detenuti che ha portato all'intervento di più poliziotti, è quanto riporta una nota del sindacato autonomo polizia penitenziaria in cui il segretario nazionale per l'Umbria Fabrizio Bonino riferisce che alle 3.30 del mattino due terrenuti nordafricani hanno fatto pugni all'interno della cella, uno di loro ha avuto la peggio e si hanno stato colpito ripetutamente con la gamba del tavolo. Grazie all'intervento di più agenti di polizia penitenziaria il detenuto è stato salvato e ritrovato privo di sensi, era inerme a terra. Una volta intervenuti gli agenti sono stati aggrediti dal detenuto aggressore riportando ferite poi rifertate in infermeria. Come fa rilevare Bonino i poliziotti penitenziari sono stati eroici perché sono riusciti a evitare il peggio proprio perché il detenuto violento stava tentando di incendiare la cella e gettare olio bollente proprio contro i colleghi intervenuti. Momenti di tensione vissuti questa mattina a Spoleto in una palazzina in via Lorenzo Betti dove i vigili del fuoco con carabinieri e 118 sono intervenuti per un incendio che è divampato all'interno di un appartamento al quinto piano. Una donna anziana intossicata è stata subito soccorsa all'interno dell'appartamento e affidata al personale sanitario. Una vetrina internazionale nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo per i tre ceri mezzani di Gubbio per una mostra dedicata ai 50 anni dello stemma della regione Umbria. Un'iniziativa nata dalla collaborazione dell'eurodeputata Francesca Peppucci con la regione e con le comuni di Gubbio che ha trovato compimento nella cerimonia pubblica avvenuta ieri alla presenza di numerose autorità e associazioni Umbre e non solo. Un evento storicamente eccezionale considerando la rarità dello spostamento dei ceri fuori dalla città di Gubbio. Nello spazio espositivo riservato oltre la presenza delle tre macchine a spalla anche le immagini della festa dei ceri e lo stemma regionale. A far da cornice alle celebrazioni anche l'esibizione del gruppo degli sbandieratori storici della città di Gubbio. Questa iniziativa nasce da una viva collaborazione con la regione dell'Umbria e il comune di Gubbio. Una collaborazione che ha permesso di portare i ceri di Gubbio, i ceri mezzani di Gubbio, qui nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo. Una grandissima occasione per celebrare i 50 anni dello stemma della regione Umbria, un simbolo di identità ed appartenenza che ricalca dei principi che sono principi di pace, principi di ugualianza, ma che alla fine sono i principi europei sulla quale si basa la nostra cultura, sulle quali si bastano le nostre radici. Per questo siamo ben orgogliosi oggi di poter festeggiare i ceri di Gubbio proprio qua in Parlamento europeo perché in una qualche maniera diamo compimento, riusciamo a chiudere il cerchio rispetto a una vicinanza che il territorio ha con l'Europa e un legame strettissimo che in una qualche maniera identifica quello che noi siamo e quello che possiamo dare all'Europa e quello che dobbiamo dare all'Europa. Beh, diciamo che per noi si scrive oggi una grande pagina di storia per Gubbio, per l'Umbria. La presenza dei ceri mezzani è un fatto eccezionale, rarissimo. Poche volte i ceri sono stati portati fuori da Gubbio e dall'Italia e credo che sia un riconoscimento nel contesto del cinquantesimo anniversario che segna appunto l'individuazione dei ceri di Gubbio come simbolo della regione dell'Umbria. È per noi un'occasione veramente straordinaria. C'è una folta presenza della comunità gubina con tutte le rappresentanze della festa dei ceri nel nome del nostro patrono Sant'Ubaldo, c'è anche una delegazione del comune di Tann, è un comune della Francia dove c'è una reliquia di Sant'Ubaldo, una splendida cattedrale ed è un comune con il quale siamo gemellati dal 1958, è il più antico gemellaggio d'Europa e quindi diciamo che questa è un'occasione veramente eccezionale della quale siamo grati al Parlamento europeo, all'On. Peppucci per avere creato questa grande opportunità che per noi veramente rappresenta un traguardo memorabile. La quarta commissione consigliare cultura presieduta dalla vicepresidente Francesca Tizzi nella scorsa seduta ha approvato con otto voti favorevoli dunque all'unanimità l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Massimo Pici e Francesco Vignaroli del gruppo Progetto Perugia sul dopo di noi. Illustrando l'atto Pici ha ricordato che la legge 112 del 2016 riguardante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare si pone l'obiettivo di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendo loro di continuare a vivere autonomamente anche quando i genitori non possono più occuparsene, in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione. Dal punto di vista legislativo e della programmazione degli interventi la materia di competenza esclusiva delle regioni che pertanto definiscono gli indirizzi programmatori propedeutici all'erogazione delle risorse per realizzare gli interventi sul territorio. L'attuazione concreta degli interventi e dei servizi è invece di competenza dei comuni. Alla luce di quanto esposto con l'ordine del giorno i due consiglieri hanno proposto di impegnare l'amministrazione a dare la sua disponibilità a sedersi al tavolo di coordinamento, sollecitare la regione a convocare prima possibile il tavolo e a fare il punto della situazione, a prendere informazioni e eseguire gli esempi virtuosi del comune di Reggio Emilia o Bologna, magari anche instaurando un rapporto di collaborazione al fine di mettere in piedi anche in Umbria un progetto di vita indipendente, solido e duraturo per ciascuna delle persone con disabilità. Con l'apertura dello sportello d'orientamento e con il kick-off, l'incontro d'apertura e il lancio dedicato a tutti i soggetti interessati, sta prendendo via il progetto NIT in Zon Tern a cura dell'assessorato alle politiche giovanili del comune di Terni che riguarda tutti i comuni della zona sociale 10. Il progetto finanziato con 62.398,70 euro dalla regione Umbria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2022, è stato presentato nelle scorse settimane e intende offrire opportunità concrete di lavoro e crescita personale ai giovani tra i 14 e i 35 anni, in particolare a quelli che sono fuori dal mondo del lavoro, della scuola e della formazione. Lo sportello d'orientamento è il primo degli strumenti del progetto ad essere attivato. Sarà aperto da oggi, mercoledì 17 gennaio, nei locali dello spazio di Coworking Bloom in via Galvani. Lo sportello sarà quindi aperto ogni settimana in tre giornate, il mercoledì dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 12. Un operatore potrà rispondere a tutte le domande sul progetto stesso e sulle opportunità per i giovani che si trovino nelle condizioni fuori dal mondo del lavoro e della scuola. Lo sportello garantirà anche la disponibilità di incontri in call e attraverso gli strumenti digitali e social. Il servizio sarà reso anche sotto forma di laboratori. Venerdì 19 gennaio, alle 10, sempre nei locali del Bloom di via Galvani, è in programma il kick-off del progetto con la presentazione alle associazioni e agli stakeholders del territorio. Parteciperà anche l'assessore alle politiche giovanili Marco Scherardi. Gli altri ambiti del progetto che saranno attivati nelle prossime settimane riguardano la possibilità di partecipare a 10 tirocini retribuiti in aziende del territorio, la realizzazione di un laboratorio d'impresa per sostenere le idee d'impresa dei giovani NIT, la realizzazione di una fiera del lavoro e l'attivazione di iniziative per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole. Nel luglio scorso, a poche settimane dal nostro insediamento, dopo alcuni sopralluoghi a piedi luco, gioiello paesaggistico e ambientale, abbiamo avviato alcune iniziative. Lo dichiara Mascianiello, assessora all'ambiente del comune di Terni, in una nota dell'ente. Dopo il cambio di tutta l'illuminazione lungo il lago e l'eliminazione delle plance pubblicitarie collocate all'ingresso del paese, pericolose e arreugginite, sono state ripristinate alcune attrezzature del parco Don Baciarelli, che presto saranno ulteriormente implementate. L'assessorato comunale all'ambiente e alle manutenzioni comunica inoltre di aver attivato la polizia locale e l'ufficio ambiente per far rimuovere le tante barche semi-affondate che fanno pessima mostra di sé sul lago. L'iter amministrativo ha impiegato molti mesi, spiega la nota, la polizia locale sta contando oltre 16 natanti abbandonati lasciati incivilmente fuori e dentro il lago, per i quali, ricorda il comune, il sindaco ha recentemente messo un'ordinanza che obbliga i proprietari a rimuovere i relitti entro 30 giorni. Nelle prossime settimane, conclude il comunicato, con il nuovo bilancio 2024, saranno riqualificate le panchine e collocate le balaustre di sicurezza lungo lago laddove mancanti. Verranno sistemati gli arredi, le fontanelle storiche e si interverrà sul decoro di Piazza della Resistenza e Piazza Orietto Bonanni. Si inizierà il 28 gennaio, Teatro Ragazzi, che è sicuramente una rassegna tanto attesa dalla nostra cittadinanza, dalle scuole, dai genitori, dai bambini, per poi passare la mano, passare il palco a teatro a chilometri zero, che inizierà il 15 marzo fino a fine maggio. Per noi è sicuramente una ricchezza avere tutte queste compagnie teatrali nel nostro territorio e a loro vogliamo davvero continuare a confermare la disponibilità della nostra amministrazione comunale, dare la possibilità di recitare nel palco del nostro meraviglioso teatro degli illuminati. Quest'anno c'è stata la conferma di tutte le compagnie dell'anno scorso a Teatro Ragazzi, col biglietto di 5 euro per l'ingresso, che andrà alla compagnia. Per quanto riguarda Teatro a chilometri zero c'è stato l'ingresso di due nuove compagnie del nostro territorio tifernate per un biglietto a 10 euro, come l'anno scorso. Vogliamo veramente sostenere queste compagnie, vogliamo veramente arricchire il cartellone del Teatro degli Illuminati con la ricchezza culturale del nostro territorio. Sicuramente parallelamente continua la stagione di prosa in collaborazione col Teatro Stabile dell'Umbria, una stagione di prosa che ha visto sold out ogni spettacolo, dal primo a quello che già sarà alle porte del 7 febbraio con Pirandello, così è se vi pare. È una stagione che vede tantissimi ragazzi che riempie appunto il Teatro degli Illuminati con il progetto Video Root Video per le scuole superiori della nostra città, con la possibilità di farli entrare in maniera gratuita grazie allo sponsor Olificio Ranieri, con i tanti abbonati che anche quest'anno hanno confermato il loro abbonamento e la loro presenza, oltre i 200 abbonamenti per tutta la stagione di prosa appunto 2023-2024. Sicuramente è una grande soddisfazione per noi, considerando anche il tantissimo lavoro che c'è dietro le quinte. Young Jazz a Foligno con tre eventi sold out che hanno visto 20 artisti protagonisti, tra i quali 14 stranieri e un pubblico estremamente variegato per età, provenienza e background culturale chiude positivamente la stagione del rilancio, caratterizzata anche da importanti collaborazioni per guardare al futuro con rinnovata energia. Complessivamente i concerti di Young Jazz hanno registrato tre sold out con oltre 500 presenze e gruppi di spettatori che sono arrivati da Milano, Bologna, Roma, Siena, Napoli, Firenze e Pisa. I 20 artisti, ma anche molti spettatori, hanno avuto quindi modo di scoprire e di apprezzare la città attraverso i concerti in spazi straordinari come lo spazio Zut, l'Auditorium San Domenico e il Palazzo Candiotti. In molti casi artisti e spettatori hanno passato due o tre giorni in città, visitando i musei, assaggiando le specialità locali, contribuendo a sostenere l'economia, spiegano gli organizzatori. La Jam Session finale ha inoltre creato un contesto di scambio musicale e umano fra artisti locali e artisti stranieri, una ventata d'aria fresca per noi dell'associazione, per gli artisti e per un pubblico che per circa metà è arrivato da fuori Foligno, dichiarano gli organizzatori del festival. Ora Young Jazz tornerà al lavoro per immaginare il prossimo evento, per migliorare e rendere più inclusive le attività. Domenica a 10 marzo il Lago Trasimeno aprirà le porte alla classica manifestazione che dà il via alla primavera podistica in Italia. La Strasimeno, ultramaratona nel Parco del Trasimeno, nei bordi più belli d'Italia e nei paesaggi dipinti dal Perugino e dal Signorelli, con le sue cinque distanze intorno al lago, è una delle gare più belle e panoramiche in Italia, organizzata dalla SD Filippide. La 10 km con arrivo a Borghetto di Tuore è la distanza ideale per i neofiti della corsa o per chi vuole correre più velocemente. Poi la classica mezza maratona che arriva sullo splendido lungo lago di Passignano sul Trasimeno e ancora la 34 km che ha il suo epilogo a San Feliciano e che viene spesso utilizzata come ultimo o penultimo lunghissimo da coloro che sono in preparazione per le grandi maratone primaverili. La mitica distanza di maratona che arriva nel borgo di Sant'Arcangelo e infine la 58 km che dopo aver percorso l'intero periplo del lago Trasimeno vedrà la sua conclusione nel suggestivo lungo lago di Castiglione del Lago dove qualche ora prima tutte le distanze avranno visto la partenza. La Strasimeno fa parte del circuito Iuta di Ultramaratona ed anche quest'anno grazie all'accordo con Milano Marathon e alla promozione Corrile Trasimeno iscriviti alla Milano Marathon i podisti che sceglieranno di correre queste due manifestazioni usufruiranno di sconti sulle iscrizioni. Una novità del 2024 è il trofeo dalle cave di Michelangelo ai sentieri del Perugino in collaborazione con White Marble Marathon che si svolgerà a Carrara il 18 febbraio che premierà i primi tre assoluti donne e uomini che risulteranno i migliori per somma di tempi sui traguardi di maratona delle due manifestazioni. Anche nel 2024 ci saranno le camminate Strasimeno, vengono riproposte le distanze di 9,16-20 km con arrivo a Borghetto di Tuoro, Passignano sul Strasimeno e Sant'Arcangelo oltre alla camminata di 6,5 km a Castiglione del Lago con promozione riservata alle scuole del paese. Ma non solo corsa e cammini, nel weekend della Strasimeno ci sarà la possibilità di ammirare le bellezze dei comuni intorno al Parco del Lago di ripercorrere la sua storia e di assaggiare le prelibatezze locali. In avviamento c'è Casa Pablito, progetto che si concentra sulla realizzazione di postazioni per pazienti sottoposti a terapie oncologiche con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei malati e delle loro famiglie durante il difficile percorso di cura. Quello che forse ci sta più a cuore è lo sviluppo delle postazioni oncologiche all'interno degli ospedali italiani e ovviamente anche l'Umbria, Brugia. Sono postazioni dedicate a malati che si sottopongono a terapia oncologica e che non riescono a tornare a casa o che comunque riportati a casa avrebbero delle difficoltà, come io l'ho vissuto in prima persona con Paolo e quindi da lì mi sono promessa e ripromessa di fare qualcosa per aiutare sia i malati che le famiglie in questo che è un problema reale. Siamo felicissimi di poter supportare la Paolo Rossi Foundation per tutto quello che fa durante l'anno, per gli sportivi ma soprattutto per la finalità che è quella appunto di aiutare i meno fortunati e i molti ospedali che si occupano di oncologologia appunto sul territorio nazionale. La Padel Cup sarà suddivisa in gironi all'italiana, ognuno con tre o quattro squadre e prevede sia la categoria maschile sia quella femminile. I livelli di gioco saranno medio, medio-alto e alto e le partite prevedono due set con un eventuale terzo set long tie-break al 10 con doppio vantaggio. Siamo onorati che la Paolo Rossi Foundation abbia scelto nuovamente il Padel tra le altre sue attività, quelle che sostengono i loro progetti. Il Padel per noi è ormai una componente determinante del nostro movimento, tant'è che un anno e tre mesi fa la federazione addirittura ha cambiato il suo statuto inserendolo proprio a pieno diritto, addirittura nella sigla perché ora noi non è più fit, come era da tanti anni, ma è fit, poi abbiamo aggiunto la P che non è una semplice lettera messa così a caso ma rappresenta un movimento, un movimento in crescita. Solo un numero, nel 2023 sono stati circa 5.000 tesserati del mondo Padel che rappresentano 36 associazioni sulle 88 che sono nel nostro mondo tennis e Padel. Mamma dice che adesso arriva il giallo e ormai non c'è più nulla da fare, ma questa volta mamma si sbaglia. Invia un sms o chiama il 45588, con il tuo aiuto o NHCR proteggerà dal giallo tantissime famiglie in fuga da guerre e violenze. Degli studi dell'Antoniano di Bologna a Tambur Battente Show porta nelle case degli italiani un Un programma fatto con gentilezza ed educazione, capace di approfondire e mettere al centro i problemi quotidiani delle persone. Un appuntamento con la musica, l'allegria, la spensieratezza, ma anche una preziosa occasione per riflettere. Tutto questo è Attambur Battente Show dagli studi dell'Antoniano di Bologna. Grazie a tutti. Domenica, quando alcuni arriverà a una spalla, che non perde da sette partite. Contro gli estensi Formisano dovrà fare a meno di due pezzi da 90 del centrocampo, come gli annoni a Santoro, entrambi squalificati. Da verificare poi le condizioni di Angella, uscito per un risentimento muscolare che ne ha provocato le cambia di inizio ripresa all'Adriatico. Ma come le capitano sono tanti i biancorossi ad affollare l'infermeria. Da verificare ci sono infatti anche le condizioni di Morichelli, Mezzoni, Ricci e Bozzolan, tutti out per infortunio in Abruzzo. Ci saranno però anche dei ritorni, certo quello di Lisi che ha scontato il terzo turno di stop, possibile quello di Vasquez che potrebbe farcela ad andare in panchina. Sul fronte mercato, dopo due arrivi, sta per concretizzarsi anche la prima uscita. Secondo i quotidiani locali sarebbe stato raggiunto l'accordo tra le portiere Furlan e il Foggia per un anno e mezzo di contratto. Ora la palla passa ai club che dovranno trovare a loro volta l'intesa ma non dovrebbero insorgere problemi. Intanto è arrivata una bella notizia in casa biancorossa, visto che Jacopo Giugliarelli ha conseguito la qualifica di direttore sportivo a Coverciano, con una tesi dal titolo Settore giovanile e scouting al servizio delle player trading. La Ternana si avvicina alla sfida di sabato a Liberati, quando alle 14 sarà di scena il Cittadella. Per le fere, programma stilato da Breda, ha previsto una doppia seduta all'antistadio nella giornata di ieri, alternando lavoro atletico e tecnico-tattico differenziato in campo per Capuano, palestra e piscina per Viviani, palestra per Inghessan e Marginean per un affaticamento al retto femorale destro post-gara di Bari. Oggi pomeriggio, allenamento invece a porte chiuse al Taddei. Sono rientrati in gruppo Favigli e Mantovani, il Cittadella invece non avrà il centrocampista Branca. Squalificato, intanto il DG Marchetti ha parlato al Gazzettino, bisogna solo pensare a fare punti, a cominciare dalla Ternana perché le altre non mollano. È un campionato bellissimo, avvincente, che il Cittadella sta interpretando da protagonista. Sul fronte mercato è sempre caccia al sostituto di Falletti, resta in auge il nome di Gaston Pereira, ma la società tiene viva anche la pista che porta a Pagano. Il pareggio contro l'Ancona ha interrotto la serie di vittorie consecutive, Rimini, Pineto e Recanatese, ma ha allungato la striscia positiva della squadra rosso-blu. Rispetto allo scorso campionato, quando il Gubbio a giro di Boe era al secondo posto in classifica con 39 punti dietro alla Reggiana 40, dopo la seconda di ritorno, la squadra di Braglia, con già 31 punti, ha ridotto a otto lunghezze il disavanzo rispetto a un anno fa. Sembra il copione inverso del film visto nella scorsa stagione, caratterizzato da un girone d'andata straordinaria e una lunghissima serie negativa in quello di ritorno. Quest'anno le premesse sembrano quelle di un cammino diverso, qualche caduta di troppo all'andata e un girone di ritorno che pare essere iniziato nel migliore dei modi. La Fermana, che in classifica è ultima con appena 14 punti in 21 gare e ha 6 punti nelle ultime 5 partite, ha perso malissimo l'ultima sfida a Pontedera beccando 4 gol, ma è una squadra che sta cercando di riprendersi e uscire dal fondo della classifica. Negli ultimi 5 turni, Batosta a Pontedera a parte, ha pareggiato 3 gare ed è riuscita a vincerne una. Dal 2017 a Doge a Fermo, il Gubbio ha giocato 5 partite, il bilancio è a favore dei padroni di casa che hanno vinto 2 gare. Due sono stati pareggi con il Gubbio allenato da Nano Galderisi. Si gioca domenica alle Recchioni, con fischio d'inizio alle 20.45. Ha ripreso ieri mattina il proprio lavoro al Palabarton, la Sir Perugia, seduta fisica in sala pesi per i Block Devils, che nel pomeriggio hanno sostenuto l'allenamento tecnico che ha dato il via alla preparazione della squadra all'anticipo televisivo della quarta di ritorno di Superlega, in programma sabato 20 gennaio al Palapanini contro i padroni di casa della Valsa Group Modena. Il programma settimanale dei Bianconeri di Angelo Lorenzetti prevede allenamento tecnico oggi pomeriggio, ancora una doppia seduta domani e una sessione di tecnica la mattina di venerdì prima della partenza nel primo pomeriggio alla volta di Modena. È una partita importante, adesso si avvicina il finale della stagione, dobbiamo mettere in campo il nostro livello migliore e al di là di Modena, che tutti dicono difficoltà non in difficoltà, quando si gioca contro Perugia è sempre una partita delicata in cui tutti vogliono far bene, però noi ci faremo trovare pronti. La partocini forte in fissi Perugia non poteva sperare in una partenza migliore in questo 2024. I primi due impegni sono andati in archivio con due vittorie importanti, la prima, quella di mercoledì nel quarto di finale di Coppa Italia con San Giovanni in Marignano, e la seconda, sabato scorso, nella penultima gara della prima fase di campionato contro Città di Messina. Se il successo di Coppa è arrivato con qualche passaggio a vuoto, lo stesso non si può dire della prestazione messa in campo contro le siciliane con le Black Angels, che si sono dimostrate solide, continue e implacabili in tutti i fondamentali. Un buon segno in vista dell'immediato futuro. Domenica le ragazze di Andrea Giovi saranno impegnate nell'ultimo match della prima fase, si va in trasferta al nord in casa di Como, formazione che nell'ultimo turno si è guadagnata l'aritmetica certezza di partecipare alla pool promozione. A proposito, con l'ultima giornata ancora da disputare, è già completo il quadro delle dieci squadre che parteciperanno alla pool promozione. Del giro nealtro alla Bartocini-Forti in fissi Perugia ci saranno Busto-Arsizio, Messina, Talmassons e appunto Como. Quest'ultimo ha avuto la meglio nel testa a testa per il quinto posto con Brescia, vera delusione di questa prima parte della stagione. Nel girone B si sono qualificate invece Macerata, Cremona, Montecchio, San Giovanni, Marignano e Mondovì. Abartocini-Forti in fissi Perugia, che dovrà vincere in casa di Albese per avere la certezza di arrivare alla seconda fase col primato, affronterà in gare di andata e ritorno le cinque squadre dell'altro girone. Mamma dice che fuori fa freddo, che dentro quella che noi chiamiamo casa entra la pioggia, perché il tetto in realtà è solo un tilone e si gela perché non ci sono abbastanza coperte per tutti. Mamma dice che ormai non c'è più nulla da fare, ma questa volta mamma si sbaglia. Ora è il nostro momento. Invia un sms o chiama il 45588. Con il tuo aiuto o NHCR proteggerà dal giallo tantissime famiglie in fuga da guerre e violenze. Ferma il giallo con noi. Dagli studi dell'Antoniano di Bologna, a Tambur Battente Show, porta nelle case degli italiani un programma fatto con gentilezza ed educazione, capace di approfondire e mettere al centro i problemi quotidiani delle persone. Un appuntamento con la musica, l'allegria, la spensieratezza, ma anche una preziosa occasione per riflettere. Tutto questo è a Tambur Battente Show dagli studi dell'Antoniano di Bologna.